Sei pronta? Sì! Buongiorno Antonio. Buongiorno Costanza. Sei bellissima come sempre. E ora signora Catalano, cominciamo una nuova vita in America. È un grandissimo onore per Palermo ospitare la mostra di tutte le scoperte tecnologiche del nuovo secolo. Fateci passare! Voi ci avete spinto. Ci avete camminato addosso. Mia moglie e mia nipote sono scomparse. Non posso più vivere con quel mostro. Invece se mi crede morta nell'incendio tutto cambierà. Non voglio mamma! Un altro uomo mi ha protetto. Il questore ha preso in mano le indagini. Vogliono un colpevole a tutti i costi. Se non archivo tanto meglio, no? Mia figlia è morta in quell'incendio. Tu le somigli molto. Sei la vergogna di questa casa! Siamo donne, Arianna. Quante possibilità abbiamo? di decidere la nostra vita.